Le dimissioni dell'assessore alla cultura sono solo la punta dell'iceberg a Ruvo di Puglia, un bilancio comunale completamente ingessato dalle nuove norme di armonizzazione contabile rischia di far saltare la programmazione di alcuni eventi estivi e dello storico Talos Festival, la prestigiosa manifestazione internazionale che da oltre vent'anni trasforma il piccolo centro barise in un luogo di grande richiamo per gli appassionati di musica jazz. Ad ammettere la difficile quadratura dei conti pubblici è lo stesso sindaco Vito Ottombrini che ieri in conferenza stampa ha voluto chiarire la situazione finanziaria dell'ente comunale. Ci sono delle questioni, delle novità che per la prima volta l'ente comune deve adottare e che adottando queste nuove regole ha portato a un bilancio preventivo predisposto in bozza nella prima bozza con un disavanzo di circa 2 milioni. Alla richiesta di maggiori fondi da accantonare si dovrà far fronte con trasferimenti statali sempre più ridotti. Per questo motivo spiega Ottombrini sarà necessario operare dettagli alla spesa in alcuni settori ma la speranza di salvare il Talos Festival l'auspica il primo cittadino è tutt'altro che tramontata. Noi cercheremo di evitare che ci siano diciamo delle decurtazioni di fondi sui capitoli del Festival Talos e di altri che sono necessari tipo i servizi che noi offriamo alla città. Ecco perché noi sia la giunta sia i tecnici dell'ente sia anche in riunioni di maggioranza entreremo nel merito nei vari particolari e faremo le scelte più giuste e più opportune per evitare che si vada ad eliminare un evento così importante a livello internazionale qual è il Festival Talos. Il sindaco è fiducioso che le dimissioni protocollate ieri mattina dall'assessore alla cultura Pasquale De Palo possano rientrare. Sono convinto che è stato un momento di suo sconforto nel vedere in un primo momento nella prima bozza di bilancio decurtati alcuni capitoli della sua attività ma non è solo i suoi capitoli che risultano decurtati ma anche i capitoli di altri tipi di attività. I tempi sono molto ridotti per prendere queste decisioni? Certo, sono tempi ridotti, io cercherò di renderli quanto più semplici e più brevi possibili in modo da ritornare a lavorare e lavorare per il bene della città.